Ciao a tutti, sono Francesco Savarino, sono un attore e sono sotto l'agenzia La Cantera Management. Vengo da Torino, vivo a Torino, però in realtà l'amore per questo mestiere mi ha portato in giro un po' ovunque, già in fase di studio. Ho iniziato a Torino da Sergio Tofano, ho fatto corsi intensivi alla Scuola Civica di Milano, sono stato un po' a Roma e poi ho coronato i miei studi diplomandomi all'Accademia d'Arte Drammatica di Vancouver in lingua inglese. Nel corso di questi anni ho fatto numerose esperienze, sia su set cinematografici per corti e lungometraggi, ma anche ovviamente su palcoscenici. Vi posso citare il film Dark Presence, che è un film che è ancora in fase di post-produzione, però è un horror indipendente in cui interpreto il ruolo del protagonista, lo ho fatto in lingua inglese, oppure il cortometraggio Teatro d'Ombre, che è prodotto allo Milano, in giro adesso in numerosi festival, interpreto il ruolo del coprotagonista ed è una storia tratta dal Diavolo sulle colline di Cesare Pavese. Poi parallelamente alla mia formazione di attore ho anche formazione esperienza come cantante. Tutto qui, niente, io amo questo mestiere, sono sempre pronto a nuove sfide, voglio sempre cimentarmi con nuove persone, nuovi ambienti, mettermi in gioco sempre in maniera diversa e quindi non vedo l'ora di iniziare sempre. Grazie.